Ne è anche il tempo di sbarcare a Napoli che già trova una statuetta in suo onore. Il nuovo allenatore Rafa Benitez ha già un posto d'onore a San Gregorio Armeno nell'angolo dell'attualità del mastro presepiaio Jenny Di Virgilio. Gli fa posto ovviamente Walter Mazzarri, traghettatore degli azzurri in Champions League ma finito subito nel dimenticatoio dopo il suo trasferimento all'Inter. E così tra Capitan Cannavaro ed Edison Cavani di fianco al patron de Laurentiis troneggia ora uno degli allenatori più vincenti del mondo a cui Di Virgilio ha sistemato anche un piccolo cornetto portafortune in mano che non guasta mai. Sì perché per le ultime cose che si sono sentite di Mazzarri si sapeva che prima o poi andava via. E quindi appena ho sentito la firma del nuovo allenatore Rafa Benitez eccolo qui in perfetta forma. formato statuina da presepe, l'ho accompagnato da un corno rosso portafortuna sperando che fa grandi cose in questa grande città, in questa grande squadra e poi come possiamo vedere accompagnato da un bel pancione e sicuramente a Napoli lui per la cucina napoletana che abbiamo mangerà molto bene. Speriamo solo che come ho detto sarà un grande tecnico per questa nostra squadra napoletana.